Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 1 settembre 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Chi troppo vuole, nulla stringe. Sobillati dalla coppia venere-sole, alta nel cielo, cullate obiettivi ambiziosi come in un'incubatrice, dove, in condizioni ottimali, dovrebbero crescere più in fretta. Ma attenti a non addentare bocconi troppo grossi, avete mente acuta e uno staff competente, ma un po' di spazio e del vostro preziosissimo tempo, concedetelo anche ad altri fronti, l'amore, per esempio, reso insipido se non un filamarognolo da Saturno, restrittivo anche in trigono. Addolcitevi subito la bocca con un bacio, perché negarsi la crema vaniglia della vita? Se non la trovate, però, non date la colpa alla fortuna, non potete avere una Scarlett Johansson o un Bradley Cooper con un cervellone da Einstein nella spiritualità di San Francesco. Anche sul piano delle amicizie tocca a voi fare delle scelte, se volete gente affidabile, con cui condividere escursioni e interessi, lasciate perdere i romantici, che intrigano ma non quagliano mai. Chiarimenti poco fruttuosi, insoddisfacenti. Vi sono delle critiche e dei pettegolezzi che possono rasentare la diffamazione. Un periodo ricco di discordie e litigi, contrasti e zuffe. E un momento estremamente importante e determinante per le cose che si desiderano. Molto bene amore e lavoro. Per i single e i dispoccupati ottime possibilità all'orizzonte. Possibili problemi legali o burocratici. Cerca di non spendere troppo. Gli acquisti che farai oggi non ti soddisferanno. Noia con bambini anche di. Vicini o conoscenti. Sarete interessati a un breve viaggio, magari potreste unire l'utile al dilettevole. Non rifiutare il sostegno di un'amica che vuole solo starti vicino. Sii accomodante. Oltre al danno la beffa. Cercate di credere di più in voi stesse e di rifiutare trattamenti poco rispettosi da parte del partner. Ne va della vostra dignità. Provate con un colpo di spugna a mettere da parte ogni incomprensione ora concore verso alcune persone che in fondo vivigliono bene. Provate a parlare loro con il cuore piuttosto che con la ragione. Una discreta dose di fortuna assiste in nati di domenica e giovedì, piccole entrati di denaro potrebbero rendervi perlomeno più sereni. Possibili discussioni con il partner per decisioni prese d'impulso e senza riflettere. Non mollare proprio adesso. Un giorno potresti pentirti di non aver perseverato. In questo ultimo giorno di agosto un fresco senso dell'umorismo entra in famiglia, dove aleggia un'atmosfera di allegria. L'aspetto che vi tocca benefico oggi è l'influsso di mercurio nel segno vostro fidato alleato della Vergine, producendo bellezza, armonia, buona salute. Con il pianeta amico arriva, inoltre una gioia di vivere contagiosa, che sapete irradiare anche su chi vi circonda. Con il cuore contento, da questo momento in poi il cielo vi aiuta molto di più. Non vi dispiacerà coinvolgere anche i vostri amici nel clima di festa che si respirerà in casa vostra in questa giornata. Un sentimento timido bussa alle porte del cuore, da un lato vi piacerebbe aprire, ma dall'altro la cosa vi spaventa. Vorrei, non vorrei. Ma se vuoi recita una bella canzone di Battisti. Soluzione, lasciate fare all'altro, non sbaglierete. Amore ed Eros. In amore avete la fama di quello che non si accontenta, ma attenzione, scarta oggi, scarta domani, vi ritroverete zitelloni. Contrariati per i figli alle prese con le prime vacanze da soli, sono ragazzi in gamba, ma ben sapete, magari per esperienza, quanto le compagnie possono essere contagiose, potenti a sufficienza per far deragliare. Parecchie raccomandazioni al telefono, ma occhio a non esagerare, subissandoli rischiate di sortire l'effetto contrario. Gli astri vi dicono di non scordarvi quest'oggi del vostro legame amoroso, magari perché vi scoprite presi da mille altri interessi, suggestioni, sollecitazioni esterne. Urano, in aspetto contrario e dal segno che richiama il valore degli affetti, il Toro, vi invita ad essere più generosi e ad occuparvi del benessere del partner, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 20 di novembre. Lavoro e denaro? Nati per emergere, avete la stoffa del capo e le stigmati dell'artista, ma nonostante la genialità, senza appoggi non arriverete lontano. Su questioni aziendali imparate a tenere il segreto, non vi dovrebbe essere difficile, visto che siete il segno taciturno dello zodiaco. Bella serata ascoltando musica o contemplando il mare, anche un film dalla trama romantica contribuirà a sedare le vostre ansie, rimettendovi in pace con voi stessi. Anche se siamo in piena estate e c'è area di smobilitazione generale, voi siete efficienti e riuscite a tenere il timone della nave, specie se siete nati nella prima decade. Inutile nasconderselo, siete impareggiabili nella gestione delle questioni lavorative. Benessere. Fissati con il look, in centri estetici e cosmetici spendete un patrimonio. La bellezza, però, comincia dal dentro, non nel senso dello spirito, ma dal fegato e dall'intestino, teneteli in ordine con beveroni depurativi. Denaro. I guadagni consistenti che vi stanno arrivando, sono il frutto del vostro assiduo impegno lavorativo. Nettuno, Dio delle acque e della liquidità, anche monetaria, vi invita a tesaurizzare le vostre risorse, senza sprecarle, in vista di prossimi e fruttuosi investimenti futuri, specie se appartenete alla terza decade. Per lei, complimenti, sul fronte universitario avete fatto la scelta giusta, ora però mettetevi d'impegno evitando qualsiasi distrazione, il test d'ingresso non è poi così lontano, un mesetto e ci sarete. Per lui, obiettivi grandiosi che qualcuno definisce fuori portata, sbagliato, con volontà e pazienza arriverete dove avete deciso. Colore delle emozioni, marron glasè. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.